Ehi! Ciao a tutti da Rosciano in provincia di Pescara e siamo qui, ci ha preso di sprovvista ovviamente questa cosa. Ecco il suono delle campane della chiesa di Santa Maria Assunta. Tre campane a slancio, elettrificazione e tanzono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E purtroppo la terza ha dei problemi, prova a partire ma ha fatto un colpetto adesso ma non si muove. Bella sta prima, io l'avevo sentita circa un mesetto fa ma non ero mai riuscita a riprenderla. Grazie a tutti. Eh beh, non c'è che dire, è molto bella. Adesso questo ha suonato alle 11 e un quarto, io avevo sentito anche un'altra suonata alle 11 e mezzo. Santa Barbara, se risuona alle 11 e mezzo facciamo una ripresa col cavalletto, siccome purtroppo la terza non funziona, la ripresa sarà fatta ovviamente dalla lato facciata, lato sud, sud ovest, dal lato praticamente della torre del castello. A più tardi. Ed eccoci dall'altro angolo di ripresa. E adesso riprenderemo il suono qui da quest'altra angolazione laterale, l'orologio e la cella campanaria. Aspettiamo adesso, se veramente sarà così, il suono delle 11 e 30. La piccolina non ha suonato, ha qualche problema sicuramente sul motore o sul teleruttore. Attendiamo la suonata delle 11 e mezzo. L'orologio è purtroppo sballato di 10 minuti. L'orologio è purtroppo sballato di 10 minuti. Incredibile ma vero, par di aver sentito due campane uguali. Eccola, 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 bella, sì, wow, che bella, guarda, bellissima, bella, bella. L'orologio è purtroppo sballato di 10 minuti. Sì, suonano tutte e tre adesso. L'orologio è purtroppo sballato di 10 minuti. 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 Bello, eh? Avete notato che c'è un semitono ristrettissimo tra la seconda e la terza. Ma certo, la voce la mette questa splendida campana maggiore, questo campanone che, torno a ripetervi, non so di chi sia, di fusione. Non mi sembrerebbe neanche una Marinelli, le maniglie sono particolari, però potrebbe essere anche una Mari, una Donati. E qui in zona ci sono mari, ma comunque adesso non so con esattezza di la verità, non ricordo che cosa suoni alle 11.45. Comunque un tentativo lo faremo anche alle 11.45. A più tardi per ora. E questo è l'interno della chiesa di Santa Maria Assunta. La volta, la volta, le annavata unica, l'altare maggiore e qui dietro c'è uno splendido organo. Molto bello, chissà sarà settecentesco sicuramente. Molto, molto bello. Bene. E adesso questa è la statua della Madonna addolorata. E adesso aspettiamo il suono delle 11.45. Ebbene, alle 11.45 e a mezzogiorno purtroppo non ha suonato nulla, probabilmente per non, io vorrei dire per non recare disturbo alla messa, ma il parroco è molto gentile. E anzi, ci abbiamo anche parlato con lui, ci ha dato delle spiegazioni, non purtroppo sulle campane, perché in quanto non sa neanche lui, probabilmente si è insediato da poco e non lo sa. Ora praticamente un grosso saluto da me e anche musicista 97 che ormai pian pianino mi assisterà in tutti i video di questa splendida regione, dalla chiesa di Santa Maria Assunta qui nel comune di Rosciano in provincia di Pescara. Un grosso saluto a tutti e un arrivederci sperando a domenica prossima con altri video e magari altre novità. Ciao a tutti. Buona domenica a tutti.